In apertura c'è la cronaca, un uomo di 72 anni di Chieti è morto in un incidente stradale che è avvenuto oggi pomeriggio sull'asse attrezzato che collega Chieti con Pescara all'area metropolitana. L'incidente si è verificato intorno alle 13.34 all'altezza dell'uscita Piceno a Prutina. L'uomo a bordo di una Fiat Punto ha imboccato l'asse contromano in zona Selvaiezzi e si è scontrato con una Ford Ka che procedeva in direzione di Pescara a bordo della quale c'erano due persone che sono rimaste ferite. Nell'impatto il 72enne è morto mentre gli occupanti della Ford sono rimasti feriti e sono ricoverati all'ospedale di Chieti. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Chieti, il 118 e i vigili del fuoco. Una terza auto è rimasta danneggiata in maniera non grave e illesi gli occupanti. I tre mezzi, i tre veicoli sono stati sequestrati.